in questo video vi facciamo vedere una originale decorazione per l'albero di natale che abbiamo trovato in giro il vetrinista ha utilizzato dei ciuffi di boa di piume di struzzo in questo caso li ha usati come vedete su tonalità di rosa però nulla vieta naturalmente di utilizzare altri colori ora qui stiamo cambiando un po verde bianco blu a piacere e qui invece lo vedete proprio su questa bella tonalità di rosa con altri accessori appesi all'albero di natale naturalmente tenete presente che sul nostro sito carnival halloween.com trovate una intera sezione dedicata ai boa di struzzo di tutti i colori che potete tagliare a ciuffi per completare il vostro albero di natale con una decorazione originale Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!